ed ecco che arriva l'ennesima vittoria per il Foggia contro un'altra diretta concorrente per quello che è l'obiettivo finale e cioè la salvezza, dopo Cava e Caserta arriva la vittoria a Viterbo contro una viterbese in evidente difficoltà un primo tempo dove hanno avuto la meglio le difese sia dei gialloblu che dei rossoneri con una prova finalmente positiva e direi convincente di Gavazzi, molto attento negli anticipi, molto attento nei contrasti Marchionni continua a puntare su di lui e dà ragione tant'è che gli ha anche affidato la fascia di Capitano dopo le ultime partite in cui Capitano era il nostro centrocampista Salvi Nel primo tempo c'è stato ben poco, dopo un'ottima punizione della viterbese proprio al secondo minuto abbiamo visto sostanzialmente poco, un tiro da fuori di De Andrea ma poco preciso Nel secondo tempo invece il Foggia ha sicuramente dato il meglio di sé con un Rocca sugli scudi evidentemente tra il primo e il secondo tempo Marchionni ha usato le parole giuste e Rocca ha guidato la squadra verso una vittoria assolutamente fondamentale innanzitutto c'è stato un palo di Rocca da fuori poi il rigore procurato da Galeota Fiore ottimo direi nella sua prima prestazione da titolare con il Foggia direi anche bene Garofalo che è stato anche autore di alcuni traversori nel primo tempo precisi a differenza invece della solita corsa, del solito impegno di Calumbo che però poi nell'ultimo passaggio pecca di imprecisione la viterbese sostanzialmente fino al settantesimo è stata un po' in balia della squadra di Marchionni dal settantesimo in poi invece il Foggia ha deciso di non giocare più di tirare il remi in barca e di dare la possibilità a Fumagalli di mostrare tutte le sue doti tra i pali con delle parate veramente degne di un portiere di categoria superiore che dire è stata una partita maschia, una partita con tante interruzioni ma è stata una vittoria sostanzialmente meritata per il Foggia di Marchionni che nonostante l'obiettivo rimanga quello della salvezza sicuramente inizia a occupare piani alti che fanno un po' sognare noi tifosi del Foggia qui Parigi, a voi Foggia